Chiedeva 150 euro per fornire consigli medici su piani di nutrizione, dando anche la possibilità di pacchetti abbonamento. Prestava la propria opera all'interno di alcune palestre dello stesso marchio, diffuse in diverse province della Sicilia. Si professava biologo nutrizionista, ma non aveva nessun titolo per poter esercitare la professione medica. Con l'accusa di esercizio abusivo della professione, falso e truffa, è finito agli arresti domiciliari un falso professionista di 40 anni, residente a Niscemi. È stato arrestato dal NAS, il nucleo antisofisticazione per la tutela della salute del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela su richiesta della Procura. L'uomo avrebbe truffato oltre 40 ignari pazienti incontrati in varie palestre. L'indagine del NAS è stata avviata proprio a seguito di specifici controlli eseguiti presso palestre del comprensorio, dove l'uomo esercitava la sua attività abusiva. Gli investigatori hanno scoperto la falsità del diploma di laurea, denominato diploma di laurea in scienze della nutrizione umana, rilasciato nel 2017 dall'UNIPSI, Università Popolare di Scienze della Salute, Psicologiche e Sociali di Torino, e hanno quindi passato in rassegna le prescrizioni di piani di nutrizione, rilasciati dietro corresponsione di cospicue somme di denaro. Il tutto ha preso il via da certamente amministrativi operati tra Niscemi e Gela. Le indagini proseguono alla ricerca di una possibile platea di vittime ben più ampia di quella finora emersa.